Signor Presidente, signor Ministro, gli Stati Uniti non hanno introdotto nuovi dazi a danno dell'agroalimentare italiano, però nell'elenco pubblicato sul sito del Tesoro americano sono circa 93 i prodotti italiani a essere stati interessati dalla prima ondata di dazi in vigore dallo scorso 18 ottobre, che ha colprito principalmente il settore lattiero caseario e quest'ultimo rappresenta circa il 14% dei prodotti alimentari venduti negli Stati Uniti. Secondo le analisi svolte dalla Banca d'Italia, i soli dazi già oggi in vigore determinano un danno complessivo per il nostro Paese di circa 400 milioni di euro. Soltanto il parmigiano costa oggi sugli scaffali americani circa 45 dollari al chilo. In prospettiva la perdita potenziale di posizioni sul mercato americano è quindi valutabile nell'ordine del 10-15%. L'Italia è un Paese di riferimento importante per gli Stati Uniti. Un drastico calo delle esportazioni avrebbe serie ricadute sulla stessa economia americana, con conseguenze negative per il commercio, la ristorazione e il turismo. Gli stessi importatori americani hanno infatti sostenuto diverse petizioni contro l'imposizione di nuovi dazi su vino e olio d'oliva. Ai dazi americani si aggiungono per il nostro Paese le insidie legate all'adozione di pratiche sleali attraverso il ricorso ormai consolidato alle vendite promozionali da parte della grande distribuzione, che abbatte di circa il 30% il compenso per il produttore. Ricordiamo anche che oltre ai dazi americani si aggiungono in questo momento il blocco sui prodotti agroalimentari da parte di Cina e Taiwan, blocco causato dall'incapacità di questo Governo a gestire i rapporti con i Paesi in occasione del taglio dei voli diretti con l'Oriente. Non avvisare la Cina che stavate per realizzare il blocco e trattare Taiwan come una provincia cinese, senza sapere che ha uno Stato autonomo, dimostra superficialità e incompetenza che pagherà caro il nostro made in Italy. Le misure adottate dall'attuale Governo, anche con l'ultima legge di bilancio, sono risultate poco efficaci a tutelare le produzioni nazionali colpite dai dazi americani. Noi avevamo proposto aiuti per 100 milioni, voi ne avete concessi 10. Quindi le domande. Quali iniziative il Ministro in indirizzo intende adottare per sollecitare nelle sedi opportune la ripresa dei negoziati tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti al fine di mettere in atto ogni possibile iniziativa volta a evitare i negativi impatti per l'agroalimentare italiano, impedendo che vengano messi a rischio i prodotti simbolo dei made in Italy. Per varare le procedure in accordo con le istituzioni europee di compensazione economica che si rendano necessarie per reintegrare le perdite subite dal comparto agroalimentare italiano e per recepire la direttiva del 2019-633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena della distribuzione alimentare. Grazie. Il Ministro Benenova risponde alla interrogazione illustrata. Signor Presidente, onorevoli senatori, la tutela dei nostri prodotti agroalimentari è una priorità di questo Governo e che persegue con estrema attenzione. Credo sia ormai noto a tutti che, dopo gli intensi negoziati degli scorsi mesi, tenutesi in stretto raccordo con le associazioni di categoria, i principali consorsi, gli importatori, i distributori americani, abbiamo scongiurato il rischio che le nostre eccellenze subissero danni irreparabili. L'agroalimentare italiano infatti non compare nella lista dell'Ufficio per il Commercio degli Stati Uniti d'America da poco pubblicata, dei prodotti soggetti a Dazi. Si tratta quindi di un grande successo, frutto anche dei miei incontri con il Segretario dell'Agricoltura americano del 27 e 30 gennaio scorso, nel corso dei quali ho evidenziato l'importanza del settore agroalimentare italiano e delle sue eccellenze e del rischio che l'imposizione dei Dazi avrebbe privato i consumatori americani dei prodotti della dieta mediterranea che sono considerati un'eccellenza a livello mondiale. Dopo questo primo traguardo il Governo sta proseguendo le proprie azioni diplomatiche per trovare una soluzione anche per i prodotti già inseriti nella prima lista. Tutelare il comparto agroalimentare italiano significa anche garantire la legalità e la correttezza sui mercati. Commercializzare il cibo palesemente sotto i costi medi di produzione, Senatore Centinaio, come lei ben sa, è vietato. Questo fenomeno genera un disequilibrio nei rapporti di filiera che si scarica principalmente sul mancato reddito delle aziende primarie e sul possibile sfruttamento dei lavoratori agricoli. Per arginare tale problematica, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 gennaio scorso ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delegazione europea che contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva europea 2019-633 contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola alimentare. Si tratta di un grande passo avanti, decisivo per l'applicazione in Italia di questa direttiva che punta a equilibrare i rapporti di forza nelle transazioni commerciali tra fornitori e catene della grande distribuzione, all'insegna dell'equità e della trasparenza, vietando comportamenti non più accettabili come pagamenti ritardati, modifiche unilaterali dei contratti o l'obbligo di pagare per merce deperita dopo la consegna, tutte pratiche esistenti da molto tempo e che finalmente vedranno un messa in discussione con l'approvazione del disegno di legge che richiamavo prima. Sono sicura che anche lei non farà mancare il suo contributo nella approvazione. I dati possono rappresentare un danno per gli americani che si andrebbero a privare di prodotti fondamentali per la dieta mediterranea e la salute. Ho visto e considerato che insieme all'europarlamentare De Castro il sottoscritto quando faceva il ministro era stato quello che aveva portato avanti tutta la problematica delle pratiche sleali. Ma un lavoro di squadra dei ministeri italiani, della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento, delle associazioni di categoria. È così che molti hanno definito il successo del Made in Italy agroalimentare che ieri è riuscito a non incassare nuovi dazi dagli Stati Uniti dopo quelli imposti lo scorso mese di ottobre su formaggi, salumi, liquori. Eppure tutto questo lavoro di squadra non sarebbe andato in rete se a scendere in campo non ci fossero stati anche gli importatori e i distributori americani preoccupati di veder crollare a picco i propri affari. L'Associazione di rappresentanza degli importatori degli Stati Uniti ha sostenuto una serie di petizioni indirizzate dal governo americano contro l'imposizione di nuovi dazi. Agli appelli promossi dalle associazioni di categoria sono arrivati anche 24.000 firme da parte dei consumatori americani. Non mi sembra che sia grazie all'Italia o al Ministro dell'Agroalimentare italiano che non sono stati inseriti nuovi dazi. Mi sembra che ci sia stata un'operazione di lobby da parte degli Stati Uniti e degli importatori degli Stati Uniti. E non lo dice Gianmarco Centinaio, lo dice il sole 24 ore. E di conseguenza non prendiamo meriti che non abbiamo nel momento in cui sono altri che tutelano il nostro agroalimentare. Quindi Ministro le chiedo gentilmente di far togliere i dazi sul 25% sui formaggi, sui salumi e su altro che sono ancora in vigore e che stanno facendo perdere guadagno alle nostre aziende. E tra le varie cose le chiedo anche di concordare con il nostro Presidente di Commissione, una sua venuta in Commissione, visto che l'ultima volta che l'abbiamo vista in Commissione Agricoltura è stato il 9 ottobre e ci deve ancora rispondere a tutte le domande che i senatori e i deputati dovevano fare al Ministro quando è venuto a presentare il suo programma di governo. Grazie.